Quest'idea già era nei nostri pensieri da un bel po', poi siamo riusciti a trovare il locale, ci siamo organizzati, abbiamo intrapreso questa strada e oggi ci ritroviamo qui ad aprire questa, ad inaugurare questa nuova attività. Ecco, raccontiamo un attimo ai nostri telespettatori di cosa si tratta, di una pizzeria e poi? Si tratta di una pizzeria e di un ristorante che utilizzerà prodotti della zona, però impiattati e messi diversamente nel piatto, non buttati lì, giusto lì. Con maggiore cura? Sì, con maggiore cura, attenzione, e oltre ai primi, secondi, anche faremo dei panini, panini gourmet, anche le pizze saranno pizze normali, gourmet, insalate, diciamo che abbracciamo la ristorazione a 360 gradi. Ecco, l'occhio di una donna e il gusto, lo stile, la sensibilità ci vuole sempre, insomma, quindi è una coppia che curerà questo cammino, questa nuova sfida nel campo della ristorazione a Benevento. Per il momento sarete aperti sempre? Sì, pranzo e cena, con un menù fisso anche a pranzo per i lavoratori, un menù veloce e facciamo anche comunque alla carta sia pranzo che cena. Benissimo, perfetto. Ho visto anche dei buoni vini che accompagneranno la nostra proposta. Sì, la nostra cantina, diciamo, è un po' sparsa dal sud, dal Beneventano, Avellinese, poi Casertano, poi andremo al nord come Alto Adige, Toscana, diciamo abbracciamo un po' una tipologia di vini di tutta l'Italia. Quelli migliori. Certo, 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 i migliori. Grazie mille, grazie. 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 Grazie a tutti.